Cristiana e Riccardo accolgono da 15 anni adolescenti o bambini nella loro vita e poi li lasciano tornare alle loro famiglie, a conclusione di un percorso. C'è una bambina con voi quasi a tempo pieno da quanto tempo? Abbiamo iniziato questo progetto d'affido a giugno del 2018 e attualmente il suo progetto è in evoluzione. Avete iniziato circa 15 anni fa, come mai? Come è stata maturata questa decisione? Una giovane coppia appena sposata, con un'idea rafforzata anche dal nostro percorso di crescita, di frequentazione, dell'associazionismo. Avete mai pensato di passare dall'affido all'adozione? Nelle esperienze di affido che abbiamo fatto, no. Nel senso che erano chiari gli obiettivi, quello del rientro all'interno della loro famiglia di origine. Dall'adozione infatti l'affido va tenuto ben distinto. È un percorso che può avere modalità e motivazioni differenti, ma sempre con una scadenza. Per un arco di tempo, il tempo necessario per fare in modo che i propri genitori naturali riescano a risolvere i loro problemi. Per valutare quanto sia conosciuto l'affido, alcune realtà marchigiane hanno proposto un questionario aperto a tutti, compilabile sul sito dell'associazione Ecco Tuo Figlio, iniziativa di un anno fa che si sta protraendo per le complicazioni della pandemia, che riguardano l'intera attività. Ha isolato le famiglie, ha isolato le situazioni, i contesti e anche i casi di richieste da parte dei servizi di disponibilità all'affido. Per contro, c'è anche tanta disponibilità in più all'accoglienza. È difficile porre fine al rapporto che si crea. Tecnicamente l'affido ha una scadenza, lo prevede la legge. Da un punto di vista affettivo mi verrebbe da ribadire un messaggio che l'affido è senza tempo.